Gio Biretta delle 17, oggi c'è una novità che è arrivato, vedete, se resto con l'are per Berto Canesperto, se resto per Antizecca, Antitutto, ecco no? Allora torniamo un po' sempre con la preghiera signori, Pasqua è Natale con il tuo e Pasqua con chi vuoi, noi ribaltiamo e facciamo Natale fuori e Pasqua dentro, Pasquetta in casa, benissimo, chi ha la terazza si fa la griglietta in terazza, chi ha il giardino in giardino, chi non ha la terazza apre la finestra e si fa la griglietta in cucina, teniamo duro che ne veniamo fuori. E c'è la barzettina, allora la dedico agli amici che lavorano da visotto, non voglio fare pubblicità, supermercato dove si va a fare la spesa, mi dicono gala, sentite Berto sempre con noi e le la dedichiamo agli amici, quelli della casa, quelli che sono tutti lì a lavorare da visotto, buia, pubblicità, non è pubblicità, poi oggi mi hanno regalato, regalano tutti un sacchettino di biscotti per Pasqua, quindi bravi, bravi. Allora, attenzione, questa la dedichiamo anche ai miei amici autisti di corriera, questa è proprio per loro. Allora c'è l'autista di corriera, questo giovane autista di corriera che portava una corriera di anziani, fai conto non so, in pellegrinaggio, facciamo qua da noi, Castelmonte. Castelmonte arriva lì, sai, partono, partono a Piazza Primo Maggio, Remanzacco, quando arriva Remanzacco un vecchietto li batte nella spalla l'autista e gli fa, Giovi, ciao per cà, e gli dà su una sgranfa e gli dà una manata di bagiggi, di noccioline. Beh, grazie, grazie, mangia, mangia. Questo qua mangia e continua a guidare. Arrivano, sai, Cividale, questo qua torna a battere, Giovi, ciao, ciao per cà, grazie, è questo qua che mangia queste noccioline. Insomma, salita di Castelmonte, praticamente, quando è in una curva, a certo punto, questo fa, ciao Giovi, ciao per caccia, mangia. Ma grazie, ma scusate, ma non li mangiai su Wattrischi? Eh, non può dire, abbiamo un problema con i denti, non riusciamo a mangiarle. Ma perché le comprate? Perché ci piace tanto la cioccolata che hanno intorno? Signori, la vaselettina delle diciassette, la biretta, casa Galax, dove è? Berto? 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 Berto! Ehi, ciao. Berto, canesperto, sempre con voi, da voi, per voi, une robe vergognosissime. Ciao, ciao, ciao. 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 Grazie.